Compie 200 anni di vita la Biblioteca Manfrediana di Faenza, una istituzione nata nel 1818, che oggi soddisfa le esigenze culturali di oltre 30.000 persone ogni anno. A 25 novembre del 1818 la Biblioteca di Faenza, che allora era nei locali dell'ex Convento dei Gesuiti, venne ufficialmente aperta al pubblico con una solenne cerimonia alla quale parteciparono le autorità cittadine più importanti. Noi abbiamo voluto ricordare quest'anno questo importante avvenimento dedicando una serie di iniziative, di eventi, nella giornata del 24 novembre prossimo. Sono diverse migliaia, sono stati oltre 30.000, se non vado errate alle presenze, nel 2017, che hanno già avuto un incremento di altri 6.000 nei primi nove mesi di quest'anno. Questo forse anche grazie al rinnovamento di alcuni servizi. Abbiamo aperto lo spazio giovani, abbiamo riorganizzato completamente la sezione ragazzi, abbiamo un ricco calendario di proposte per le scuole, per quanto riguarda i laboratori. Nel 2000, l'anno scolastico passato, abbiamo fatto 246 incontri con le scuole.